Terribile notizia per Vasco Rossi, il rocker italiano. Tra i mostri sacri della musica nostrana, piange la scomparsa di una persona a cui teneva molto. Prima di addentrarci in questa notizia commovente, non dimenticare di premere il pulsante di iscrizione e lasciare un mi piace se ti piace il nostro contenuto. Il tuo sostegno significa tutto per noi. Ora, cominciamo. È una giornata cupa per Vasco Rossi, uno dei leggendari rocker italiani, mentre affronta la perdita di una persona cara al suo cuore. In un toccante post su Instagram, il celebre cantautore ha condiviso la tragica notizia e ha espresso il dolore immenso che sta provando per questa profonda perdita. Solo poche ore fa, Vasco Rossi ha salutato Andrea Giacobazzi, un amico di lunga data e ispiratore dietro la celebre canzone Colpa d'Alfredo. Giacobazzi, originario della città natale di Vasco, Zocca, è venuto a mancare a Modena all'età di 67 anni a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico. Nel suo commovente omaggio, Vasco ha ricordato il sostegno costante e la lealtà che Andrea gli ha dimostrato nel corso degli anni, anche nei momenti più difficili quando gli altri voltavano le spalle. «Andrea è stato sempre al mio fianco, anche quando molti facevano finta di non conoscermi», ha scritto Vasco. «Credeva in me e mi è stato accanto insieme a Marengo. È così che lo ricorderò sempre perché so quanto significasse per lui». Mentre Vasco Rossi piange la perdita del suo caro amico, prendiamoci un momento per riflettere sul profondo impatto che Andrea Giacobazzi ha avuto sulla sua vita e carriera. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Vasco e a tutti coloro colpiti da questa perdita. Ora, vogliamo sentire anche te. Qual è il tuo ricordo preferito della musica di Vasco Rossi? Facci sapere nei commenti qui sotto. E se non lo hai ancora fatto, non dimenticare di iscriverti a Curiosità e News Italia per altre novità sulle ultime chiacchiere e notizie. Resta sintonizzato per il nostro prossimo video!